Sono passati dieci mesi da quando vi ho parlato di Crypto.com Oggi lo rispiego per l'ennesima volta perché mi sono arrivate vagonate di messaggi dal mio video che è andato molto bene, sono felice di questo perché la moneta CRO è esplosa e io la comprai a una media tra 007 e 0013 ma per adesso non vi dico ancora nulla questo video è fatto per insegnarvi ad utilizzare questa applicazione non ci sono consigli finanziari come al solito vi lascio il link in descrizione se ci cliccate su e ordinate poi la carta vi spiegherò tutto in questo video, tutto molto semplice io ricevo 25 dollari e voi ricevete 25 dollari molto semplice detto questo iniziamo col dire che cos'è Crypto.com e che cos'è CRO Crypto.com è un'applicazione che secondo me è estremamente semplice da utilizzare io ormai ce l'ho da più di un anno, vi farò vedere da molto più di un anno in realtà le prove ho acquistato questa che è la carta di credito metal, molto figa è di metallo ed è la verde, ovvero un livello un po' più alto un po' più alto locatello che ti permette poi di ricevere il cashback ma ci arriviamo per gradi quindi dovete sapere che Crypto.com è un'applicazione molto semplice da utilizzare e Crypto.com sta facendo pubblicità ovunque e questo non è un video sponsorizzato quindi mi raccomando dategli un approfondimento io cerco di spiegarvi come funziona l'applicazione anche per capire come si compra, come si vende e che potenzialità ha l'app e perché ve la sto mostrando se aveste ascoltato e aveste studiato a gennaio quando vi ho parlato di questa applicazione avreste potuto acquistare un cro una di queste monete qui che adesso stiamo vedendo ha qualcosa come 0,06 perché a gennaio stava 0,06 oggi, adesso, che è sceso un pochino è a 0,73 quindi ha fatto più di per 10 in effetti se andiamo a vedere un po' di... andiamo non troppo indietro una settimana fa il 24 novembre era arrivato a quasi un dollaro io credo che ci sia ancora margine di esplosione e Crypto sono così sono volatili e si rischia tantissimo questo lo dovete sapere però io ho voluto rischiare mi è andata estremamente bene questa volta voglio spiegarvi un attimino meglio come funziona questa applicazione e lo faccio direttamente dalla mia home e nella home non vi mostro il total balance perdonatemi vi farò vedere però quanti cro ho acquistato ad agosto dell'anno scorso e quanti ne ho adesso con tutte le cose che ci sono state in mezzo la home è sottratta in questo modo c'è il total balance che è quanto avete poi sul vostro wallet potete inserire dei favorites cioè delle monete preferite che potete tenere sempre d'occhio se scordete più in basso ci sono i top gainers cioè quelli che nell'aggiornato odierna hanno ottenuto un risultato importante infatti qui vediamo Rarible che ha più 42% AMP che ha più 20% e via discorrendo se andiamo a vedere Rarible e ci clicchiamo su questa è la schermata del token della moneta potete vedere un grafico a un giorno 8 ore iniziando proprio da tutta sinistra come potete vedere infatti nelle ultime 8 ore proprio 2 ore fa questo token valeva 18 dollari vedete il prezzo cambiare e adesso sta a 27 dollari è cambiato del 53% in pochissime ore scendendo più sotto potete avere il prezzo del BTC cioè praticamente vi fa vedere quanto vale rispetto in bitcoin nulla di trascendentale cambia soltanto da bitcoin a USD ok è giusto un grafico aggiuntivo se non avete ancora familiarità col bitcoin faccio fatica anche io che ormai è un bel po' di tempo che ci sto dietro vi direi utilizzate il dollaro come base io utilizzo il dollaro si può eventualmente cambiare si può mettere euro detto questo andiamo market cap cioè quanto è il volume totale di questo token 134.700.000 quanto è stato il volume scambiato nelle ultime 24 ore cioè quanto effettivamente è stata venduta ed acquistata questa moneta e parliamo di quasi 17.500.000 e il rank quindi il rank sono le monete che hanno capitalizzazione più elevata e siamo in posizione 414esima più in basso potete vedere sia il ROI che il ritorno dell'investimento iniziale cosa pazzesca più 3546% una roba fuori dal normale e un ATH percentuale o ATH del 54% significa all time high cioè quando è arrivato al top quando ha fatto il suo massimale in basso avete un sommario di quello che è il progetto about Rarible e questa è una cosa secondo me molto importante da leggere perché anche se non abbiamo una conoscenza elevata inizialmente ci dà un'idea di dove andarci a informare come e cosa fa questo token banalmente Rarible fa NFT è un marketplace NFT che sta salendo tantissimo ultimamente perché è un raccoglitore di progetti NFT quindi i cercatori di NFT vanno su Rarible per vedere i progetti che funzionano meglio fondamentalmente vi ho parlato di NFT qualche settimana fa mi raccomando andate a vedere sul canale e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto perché diciamo chi ha studiato? è andata bene è andata bene perché ha studiato quando ho parlato di queste cose questa è ancora la home in basso trovate Mission Supercharger e adesso ci arriviamo e sotto tutte le news le news sono importanti da tenere d'occhio perché magari vi danno per esempio quando listano un nuovo token al listing di un nuovo token c'è sempre il ballo perché si alzano e si abbassano tantissimo però è sempre importante rimanere aggiornati anche con quello che sta facendo Crypto.com perché Crypto.com sta investendo tantissimo nel calcio mi sembra nella Formula 1 deve fare una sorta di stadio se non vado errato comunque una roba assurdamente grande insomma si sta dando da fare e questo lo rende più commerciale lo rende più alla portata di tutti e quindi loro hanno fatto questa scelta inizialmente la facilità di utilizzo è praticamente come utilizzare un conto bancario ok? né più né meno ora questa è la parte principale se noi andiamo in basso e clicchiamo su accounts avete tutto il vostro wallet fotografato io non vi faccio vedere cosa ho nel wallet a livello economico vi dico quello che ho acquistato e perché Crypto.com Coin Harmony Yotex Phantom Cellar Network AMP e Ethereum di queste sotto Ethereum ne ho un bel pò ma ne ho in staking YDX invece è un token che mi hanno dato con il supercharger ma adesso ci arriviamo e poi USD Coin Shiden Network questa è una cosa che avevo tolto già parecchio tempo fa però rimane un po' di dust quella che è la polvere di token quindi uno 0,000 sia di Shiden Network che di Chromia mi sembra che si dica così che di Bitcoin vi dico Bitcoin non li ho qui sopra Chromia e Shiden Network poi c'è CryptoEarn CryptoCredit e Supercharger che vi dicevo prima poi potete avere la carta di credito sul quale spostare i vostri soldini e utilizzarle immediatamente come fosse una carta normalissima e il Fiat Wallet che non è altro che un IBAN questo poi c'è la parte di Track il tracking che è molto molto importante perché potete inserire qui e tenere traccia di tutti quanti i token ma soprattutto settare degli alerts non utilizzo più questa applicazione per gli alert però potete vedere per iniziare va benissimo il Q16 ottobre 2020 io settavo un alert con BTC sotto gli 8000 euro voi sapete adesso non so quanto sta il bitcoin stiamo parlando di 50.000 euro però siccome ci sono state delle punte in basso mi sembra proprio l'anno scorso a ottobre io mi triggeravo quando succedevano queste cose proprio per provare a prendere al prezzo più basso detto questo ecco giusto per farvi capire che per creare un alert è molto semplice per esempio crypto.com si mette un target price o la percentuale di movimento per esempio io voglio mettere un target price attualmente il cro è a 0.73 vi ricordo ancora che quando l'ho preso io stava a 0.06 eh quando arriva a 0.9 cioè più 22% ti fa un alert ti setta un alert basta semplice quando arriverà a 0.90 ti arriverà un pop up e tu pensi ok adesso o vendo oppure compro nel caso inverso anche nella parte di card potete vedere quanto ci avete messo sulla carta ci avete spostato e tutti i vostri movimenti proprio sotto questi che adesso ho blurrato è molto molto semplice è molto molto semplice è molto molto immediato devo dire la verità quello che vi faccio vedere adesso è che nell'app con questa carta ci sto acquistando con Spotify e Netflix Spotify e Netflix Spotify e Netflix come vedete c'è tutto quanto segnato perché perché mi riaccreditano praticamente il costo sia di Spotify che di Netflix non è magia nera non è scam funziona veramente adesso vi spiego come funziona tra le altre cose io lo tenevo in inglese perché sono stronzo ma hanno aggiornato l'italiano non lo sapevo la tua lingua è impostata come italiano perfetto adesso è tutto in italiano io lo tenevo in inglese quindi anche per coloro che sono poco avvezzi all'inglese adesso c'è l'italiano e potete fare tutto molto più velocemente parliamo quindi delle carte voi potete richiedere immediatamente una carta crypto.com visa partendo dalla midnight blue che in pratica potete prendere immediatamente con 0 euro in stake di cro che significa che cos'è lo stake non è nulla di trascendentale in pratica voi dall'applicazione e vi farò vedere come potete bloccare un tot di cro che è ricordo la moneta di crypto.com bloccandoli non è che li perdete sono lì fermi e come se voi li aveste messi ad investire con un guadagno passivo anche quindi non è che li tenete lì fermi senza guadagnarci niente li tenete lì fermi per un tot di mesi sei mesi per la ruby steel e oltre a darmi un ritorno economico del 6% su base annua vi danno anche dei benefit aggiuntivi ripeto la midnight blue la potete ordinare la potete utilizzare come fosse una carta normalissimo ci mettete tutti i soldi che volete e la utilizzate come una visa normale avete un cashback dell'1% se invece mettete in stake 350 euro in cro quindi ad oggi circa un 500 cro tenete il 2% in cashback però le cose si fanno estremamente interessanti quando andiamo alla green jade io ho la green come potete vedere vuol dire che ho messo in stake circa 3500 euro in cro mi danno un cashback del 3% e ho attenzione attenzione il 100% di spotify e il 100% di netflix indietro questa è una cosa fighissima come potete vedere sotto a royal indigo e jade green abbiamo il 100% di spotify e il 100% di netflix se un domani volessi mettere in stake 35.000 euro sempre per 6 mesi prima mi ricordo fosse di meno avrei un cashback del 5% e poi avrei indietro anche i soldi di amazon brime ovviamente dobbiamo pagarlo con questa carta e avrei un 10% su expedia di 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 sconto da non sottovalutare che io ho l'accesso alle lounge aereo portuali se avessi la carta con 35.000 euro in stake avrei un guest abbiamo pure una partnership con i jet adesso perché quella è poi riservata a quella allo step successivo e quale può essere lo step successivo la carta con 350.000 euro in stake che oltre ad avere l'8% di crow come cashback ha tutto quanto attivo ovviamente e una partnership con i jet privati bello potete ritirare gratuitamente a seconda delle carte ed è lì che un po' ci frega però il ritiro ci interessa poco perché con la carta midnight blue quella da zero potete ritirare 200 euro per mese poi c'è un 2% ogni volta che ritirate e potete fare delle transazioni per 2000 euro già con la raid la carta rossa cambiano le cose 400 euro e 4000 euro invece di transazioni per mese quella che ho io vi dico perché non me lo ricordo secondo me è la buona via di mezzo posso ritirare fino a 800 euro e posso avere delle gratuitamente fino a 10.000 euro di transazioni mensili direi che ci bastano e ci avanzano vi faccio vedere quanti crow ho in questo momento sono crow che non ho spostato e che provengono dall'acquisto iniziale attenzione io ho bloccato 15.000 crow che ad oggi sono circa 11.000 dollari e guadagno il 6% sempre su base annua e vedete qui che ogni settimana mi vengono accreditati dei crow nuovi quindi io ogni settimana ho circa 17 crow come potete vedere di guadagno passivo infatti poi ti dice il guadagno totale ultimamente perché ogni 3 mesi poi è da riattivare quindi voi vedete che ho un guadagno totale 67 crow però in effetti l'ho riattivato il primo novembre questa è l'unica scocciatura che ogni 3 mesi devi andare a cliccare è una scocciatura limitata se vogliamo ecco quella è la parte di stake semplice e precisa come vi ho detto lo mettiamo blocchiamo e via ce ne dimentichiamo tra le finanze noi abbiamo visto in questo caso l'earn che poi è lo stake di cui abbiamo parlato credito c'è la possibilità di fare una sorta di prestito non ve lo spiego adesso perché non è necessario però c'è anche il supercharger che cos'è il supercharger in pratica è learn di cui abbiamo parlato prima quindi lo stake bloccate le vostre risorse per un tempo ben definito e invece di ottenere una percentuale in passivo vi danno delle monete in questo caso io ho voluto provare ho bloccato una certa cifra in in questo caso in supercharger e ogni giorno mi danno uno 0,014 di ydx ricollegandoci alla home è quello che poi vi ho detto ecco questo di ydx non lo contate perché è un test che sto facendo è un token nuovo che se domani esplode ok benissimo posso ottenerlo praticamente solo da qui se non esplode il rischio non c'è stato i miei token stavano lì nessuno li ha toccati ho solo una moneta nuova ultimamente hanno messo anche delle ricompense per missioni e dei bonus queste missioni vi danno vi danno questi diamanti ok con i diamanti potete riscattare delle cose all'interno dello shop in questo caso delle mystery box io ho raccattato quella due diamanti ho riscattato sei diamonds questa cosa non l'avevo mai fatta però con 25 mi darebbero una mystery box vediamo che cos'è la mystery box perché non ci ho ancora capito granché qui dentro perché l'hanno attivata da veramente poco questa questa scatola vi da dei crow è una specie di dei gratte e vinci paghi 25 diamanti ti danno dei crow in come ricompensa vi farò vedere vi farò vedere e sapere magari appena appena finisco a raccogliere tutte queste robe vediamo quanti crow ci dà questa questa mystery box se volete insomma fatemelo sapere magari rimanete aggiornati iscrivetevi così la prossima volta sapete che fine che fine farò con questi diamanti e quanto otterremo di crow vi ho dato una panoramica generale adesso come si fa effettivamente a vendere a trasferire a fare a dire basta cliccare su trasferisci deposita o preleva se vuoi depositare clicchi qui e puoi depositare sia con le criptovalute da altre piattaforme quindi ammettete che state utilizzando in questo momento Binance potete trasferire i soldi da Binance a crypto e viceversa ovviamente poi oppure in fiat quindi non in fiat la fabbrica ma attraverso IBAN stessa cosa quindi con preleva puoi inviare su external wallet dove vuoi oppure in un conto bancario se vogliamo incominciare a fare trading anche qui possiamo fare compra e vendi semplicemente scegliamo qual è il token da acquistare volessimo mai acquistare dei cro possiamo sia utilizzare la carta di credito che il crypto wallet quindi utilizzare le altre crypto che abbiamo sul conto che fiat è il nostro conto bancario allegato iscriversi è molto semplice in realtà basta mettere i vostri dati inviare la foto della carta di identità e il giochetto è fatto vi attivano molto molto velocemente bene questa è una rapida visualizzazione di quello che è il mondo di crypto.com come vedete è molto semplice è tutto molto semplice cliccando sul tasto centrale quello con il logo di crypto si arriva in questa parte dove c'è tutta la parte di trading spese e finanze una cosa simpatica è che si può fare l'acquisto ricorrente quindi scegliere settimanalmente bisettimanalmente o mensilmente che cosa acquistare per quanto tempo partendo da 50 dollari e c'è la parte di pay pay non è altro che la possibilità di inviare e ricevere i pagamenti tramite la scansione del vostro codice molto molto semplicemente scansionate il QR code e via potete pagare ad un amico un po' come si fa con paypal quando invii su email la stessa cosa qui si possono anche fare delle carte regalo con il 10% di cashback se nel caso vorreste acquistarle insomma l'app di crypto secondo me è molto interessante da studiare e soprattutto in questo momento mi ha regalato tante soddisfazioni io ho fatto un video lungo ma spero di essere stato esaustivo così da aiutare anche i neofiti ad utilizzare l'applicazione crypto.com senza problemi e soprattutto questo fatto dei 25 dollari dategli una possibilità a me fa piacere tanto non riceverei null'altro se non questo rewards e a voi può far piacere perché sono 25 dollari in più nel caso ordinaste la carta che non è di credito mi viene sempre da dire di credito ma è di debito noi ci vediamo al prossimo video e un abbracione